Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, è l'ultima volta giuro che vedrete dei capelli così terrificanti ma finalmente oggi ho il barbiere, quindi nel prossimo video mi vedrete un po' più alleggerito qua non ce la faccio veramente più, non so più come mettere i capelli doverosa premessa perché sicuramente qualcuno rimarrà spaventato di fronte a questo mucchio di cose in testa striscione dalla curva sud contro Lukaku, Romelu rimane pure a Milano, il secondo portiere già ce l'abbiamo simpatico, simpatico perché fa riferimento ad alcuni fatti noti delle ultime stagioni sportive di Romelu Lukaku e la curva che si espone e dice no, Lukaku non è uno dei profili che ci piace, non è uno dei giocatori che vorremmo avere io sapete già, ho già raccontato la mia prima disposizione su Lukaku, oggi però voglio andare un po' più nel dettaglio signori, voglio andare un po' più nel dettaglio perché quello che sta succedendo non mi sta piacendo ieri ho fatto una breve introduzione, ho buttato lì l'argomento senza andare troppo nel dettaglio però poi mi è stato servito un assist clamoroso e non posso fare altro oggi che entrare all'interno della discussione perché progettualmente, sportivamente ed economicamente non andrei mai a fare lo scambio tra Vlaovic e Lukaku lo sapete, vi ho già spiegato mille volte i motivi, però questa nauseabonda campagna contro Romelu Lukaku dal punto di vista umano mi sta facendo quasi venire voglia che lo scambio vada in porto poi io mi auguro che Lukaku non arrivi alla Juventus ma se devo prendere una, una sola motivazione per cui spero che la fare possa concludersi è questo, perché io non posso leggere un giocatore, una leggenda un professionista vicepresidente dell'Inter come Aver Zanetti che mi fa la campagna contro Romelu Lukaku dal punto di vista umano, dal punto di vista umano bisogna lasciar stare i giocatori perché sono scelte professionali, poi Zanetti dice una cosa intelligente, dice lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava soltanto dirlo per tempo, però ragazzi allora i calciatori o sono sempre mercenari o non sono mai mercenari, perché se un'istituzione come Aver Zanetti arriva a dire Lukaku ci ha traditi e ci ha diluso non solo dal punto di vista professionale ma pure umano secondo voi qual è il messaggio che passa alla tifoseria? Perché mi sembra di rivivere un po' la stessa cosa che è successa con Iguain, con Vlaovic e ora con Lukaku, prima erano eroi erano giocatori meravigliosi, fantastici, simboli della lotta contro il potere rappresentato dalla Juventus e poi quando accettano di andare alla Juventus, dietro tra l'altro trattative pesanti e importanti, perché si Guain che Vlaovic sono stati pagati a peso d'oro, Lukaku non è dell'Inter bensì del Chelsea e viene pagato, perché viene pagato diventano delle persone spregevoli, diventano dei veri e propri mostri, io leggo degli articoli su Rumelo e Lukaku e dal punto di vista umano mi sembra di leggere gli articoli su Pacciani e il mostro di Firenze, questa cosa non può essere veritiera, non è possibile fare delle campagne, delle campagne a mezzo stampa da parte dei club nei confronti delle persone, non delle persone, perché quello non esiste, anche perché Lukaku non meravigliamoci, cioè non stupiamoci, non possiamo svegliarci a luglio o agosto del 2023 su Rumelo Lukaku, perché? Perché Lukaku quando quell'estate passa poi all'Inter, cosa aveva fatto fino a due mesi prima, un mese prima? Non aveva trattato e accettato i termini con la Juventus? O me lo ricordo solo io, quello scambio con Dybala che è saltato solo perché Dybala ha detto no allo United, non aveva accettato i termini con la Juventus, quindi poi è andato a ritratarli con l'Inter, però gli andava bene perché andava all'Inter? Allora era già un mercenario che guardava soltanto allo stipendio e non alla squadra nel 2019, non era l'eroe gigante buono dal cuore d'oro, era la stessa cosa, identica. Quando l'anno dopo, due anni dopo, va al Chelsea, lasciando l'Inter con 115 milioni di euro, quindi un grandissimo colpo dal punto di vista finanziario in uscita, ma sprovvista anche delle prestazioni dell'attaccante e arriva al Chelsea e spara anche abbastanza sull'Inter dicendo che quello lì è il suo club preferito, club della sua infanzia e poi dopo un anno fa di tutto per tornare all'Inter. Cioè, dal punto di vista professionale, professionale, Lukaku si era già identificato, dal punto di vista umano sono tutte altre cose, le scelte professionali non possono puntare poi sull'umano o almeno o lo fanno sempre o non lo fanno mai, non lo fanno solo quando vanno in una direzione opposta a quella che vogliamo noi. Se vogliamo battezzare Lukaku dal punto di vista umano lo facciamo su tutte quelle che sono state le sue scelte professionali in carriera, non soltanto da quelle che ci fanno più comodo. Lukaku non si è mai comportato bene, mai. La sua storia parla per lui. Chelsea, United, Everton, quante squadre ha fatto in Inghilterra? Quante volte è stato un giocatore che faceva i salti mortali per chiedere il trasferimento? Quante volte ha parlato con un club e poi con l'altro? Chelsea e United non si vogliono bene, Juventus e Inter non si vogliono bene. Oppure Lukaku ha sempre parlato un po' con tutti e anche sempre accettato i termini, non gli importava il colore della maglietta, gli importava che fosse una squadra a livello, gli importava che alla fine del mese arrivassero quei soldini che chiedeva. Quindi è sempre stato così, non lo è diventato oggi. Quindi se vogliamo fare la campagna contro l'uomo Romelu Lukaku stiamo sbagliando tutto perché siamo semplicemente incoerenti. Perché questa battaglia allora andava portata avanti da quattro anni fa, quando Lukaku arriva all'Inter dopo aver accettato la Juventus, uno scambio che salta, non perché Lukaku si mette in mezzo e dice no voglio l'Inter, ma perché semplicemente Di Bala dice non voglio lo United. E attenzione, questa è assolutamente una campagna da parte dell'Inter a mezzo stampa. Non significa che l'Inter brutta e cattiva che parli con i giornalisti fai... perché anche la Juventus secondo me sta facendo la stessa identica campagna ma dal punto di vista di Vlaovic, non per screditare Vlaovic o robe del genere. Però che di Real Madrid e di Bayern Monaco abbia parlato solo tutto sport, un attimino il dubbio mi viene, non è che la Juve che dice fate girare, fate circolare questa idea che Vlaovic sia richiesto da queste squadre che ancora hanno il centro avanti e che la Juve chieda quella cifra lì e che si stia trattando e ragionando quando in realtà quell'offerta non è mai arrivata? Punto di domanda. A me viene naturale pensare che sia la Juventus che tramite tutto sport stia cercando di creare delle informazioni di mercato dal punto di vista di Vlaovic per mettere fretta alle squadre che possono essere davvero interessate a formulare un'offerta per Vlaovic. E' naturale pensarlo. Però ribadisco, la campagna dal punto di vista umano contro Romelu Lukaku mi sembra leggermente troppo. Leggermente troppo. Tra l'altro Lukaku è ufficialmente senza numero di maglia. Ieri sono stati distribuiti i numeri di maglia al Chelsea. Lukaku non ha il numero, è fuori rosa e comunque vale 40 milioni di euro. Questa è una domanda che mi avete fatto ieri nei commenti. Come sempre ragazzi il prezzo lo decide il mercato. Da questo punto di vista non si scappa. Il prezzo lo decide il mercato. Quindi se c'è una squadra come la Juventus che è disposta a spendere 40 milioni di euro per Romelu Lukaku significa che Romelu Lukaku vale 40 milioni di euro anche se fuori rosa e senza numero. Quindi la colpa tra virgolette è nostra. Se andiamo ad affondare il colpo Lukaku e lo lottiamo 40 milioni di euro, la colpa è nostra. Perché se no semplicemente un giocatore fuori rosa, senza numero di maglia, di oltre 30 anni, un vero e proprio esubero dichiarato che non ha preso parte alla tournée, non vale mai quella cifra. Non lo vale mai. Però c'è sempre quel discorso che la Juventus, l'altro giorno un ragazzo mi chiedeva ma perché dici che la Juventus vuole cedere Vlaovic? La risposta è questa. La risposta è questa. Perché se no la Juventus non andrebbe mai e poi mai e poi mai a proporre questo scambio al Chelsea con la volontà di ricavare poi una parte cash. Perché la Juventus ha la necessità a questo punto di mettere a bilancio una cessione di quel livello. E quel numerino lì nelle cessioni te lo mette uno solo che è Dujan Vlaovic. Quindi l'unico incastro, proprio perché come dicevo prima non sembrano arrivate offerte come le vuole la Juve per Vlaovic, l'unico incastro possibile è quello lì. Farsi dare dei milioni di euro dal Chelsea, prendere Lukaku e valutarlo quella cifra. Fare in modo che comunque Vlaovic risulti venduto a 40 di Lukaku più 40 cash. Quindi 80 milioni di euro. Questa è la motivazione. Per quello che Lukaku vale 40 milioni di euro. Non perché in questo momento Lukaku valga 40 milioni di euro. Perché io sono convinto, convinto, che se dovesse mai arrivare ipoteticamente una squadra, l'Arabia di turno va dal Chelsea, gli offre 10 milioni di euro, 15, 20 milioni di euro per il cartellino, glielo danno. Glielo danno. Cioè addirittura il Chelsea non è convinto di Dujan Vlaovic. Cioè mi sembra di sognare perché stiamo parlando ragazzi della punta titolare della Juventus. Con 7 anni in meno. Che viene valutato dal Chelsea una sessantina di milioni perché ho offerto Lukaku che viene valutato 40 più 20. Ma stiamo scherzando? Lukaku senza numero fuori rosa 40, il Chelsea mi valuta 60 Vlaovic. 18 mesi fa parlavamo di Vlaovic e non io. Non io. Almeno non solo io. tutti, tutti, di quel giocatore che per numeri poteva avvicinarsi agli scorrealizzativi di Holland, che erano comunque superiori. Poteva avvicinarsi. Era quel giocatore con l'età anagrafica vicina a quella di Holland, in grado nel futuro prossimo di poter raggiungere o avvicinarsi a quei numeri lì. Dopo una stagione completa al City e una stagione completa alla Juventus, ci sono delle distanze siderali. Appunto, Vlaovic viene valutato 60 milioni nel Chelsea non sa se affondare il colpo oppure no e viene quasi valutato come Lukaku fuori rosa e senza numero. Probabilmente in questi 18 mesi non si è lavorato bene sulla materia prima, perché sennò Vlaovic non andrebbe mai a essere così tanto svalutato. Ricorderete che 18 mesi fa si parlava di Arsenal per Vlaovic. L'offerta era comunque intorno agli 80-90 milioni di euro. Quindi soldi, quindi il giocatore era richiesto, era ambito da un club, l'Arsenal, che mi sembra che stia facendo discretamente bene negli ultimi anni con Arteta in panchina, siano riusciti ad allestire una squadra di livello. Poi loro sono andati su Gabriel Jesus l'anno scorso, quindi hanno fatto altre scelte e magari in questo momento non sono nemmeno interessati. È arrivato anche un altro attaccante che adesso mi sfugge il nome a gennaio e dopo alla fine giocava pure lui. Io ripeto un concetto che vi ho già spiegato qualche settimana fa. Io oggi, dato che non ho fiducia nella guida tecnica e avrei cambiato allenatore quest'estate, perché secondo me era il momento giusto per cambiare allenatore, per ragioni economiche, prettamente economiche mi viene da dire, si è deciso di proseguire con Massimiliano Allegri. Io però oggi tratterrei tutta la rosa, perché? Perché appunto non essendo convinto della guida tecnica mi piacerebbe vedere i stessi giocatori affrontare il mood della Juventus da un altro punto di vista, diverso da quello che è stato applicato nelle ultime due stagioni che ha portato, secondo me, a questi risultati negativi da parte della Juventus. Poi, se la Juve è costretta, proprio costretta, obbligata a vendere Vloge per ragioni di bilancio, allora io qua alzo le mani, non ci posso fare niente, alzo le mani, se per ragioni di bilancio, quindi fuori dal contesto sportivo, ci si può fare niente. Però il dubbio è sempre quello. Perché Lukaku? E la risposta non può essere, beh, perché il Chelsea è l'unica squadra con cui possiamo cercare l'incastro. Perché qua veramente lo sport lo prendi, questo è lo sport, lo prendi e lo butti via. Stai parlando di un'azienda e non di sport. Perché se no, non puoi banalmente ragionare in questo modo. Perché è l'unica possibilità di incastrare, no? Questa roba non esiste. Poi, dovessero rimanere Chiesa, Vlaovic, Bremer, tutti quanti, per me è una situazione win-win, perché poi magari Allegri riuscirà a lavorare meglio con questi giocatori e raggiungere i risultati, però io qui, ancora una volta alzo le mani, non ho la sfera di cristallo, bisogna vedere qual è l'idea. Perché la stessa supponenza dicendo, vabbè, se ha la Juventus e quindi lavoriamo come abbiamo lavorato negli ultimi due anni, quindi male per poi prendere risultati, no, non si migliora. Per migliorare bisogna essere autocritici. E se abbiamo fatto una bella doccia di umiltà e abbiamo capito quelli che sono stati i nostri errori dal punto di vista di programmazione, di lavoro quotidiano dell'ultima stagione e della stagione precedente, allora abbiamo delle possibilità per migliorare. Se torniamo invece non in punta di piedi, ma con i piedi ben saldi per terra dicendo, guarda che in realtà siamo andati bene per quello che potremmo fare, anzi abbiamo fatto anche di più, si pronuncerà una terza stagione dell'Allegri 2.0, super deludente e ancora una volta senza trofei, perché quest'anno giochiamo soltanto per due competizioni, la Serie A e la Coppa Italia. Dipende molto, anzi, molto, dipende tutto da questa roba qui. Dipende se ci siamo fatti un bagno di umiltà oppure abbiamo semplicemente detto, ma guarda che siamo semplicemente stati sfortunati. No, sono due concetti differenti. Quindi situazioni win-win perché mi piacerebbe sinceramente vincere lo scudetto quest'anno. Io non faccio il discorso, io ho letto tante volte, no, bisogna attifare comunque contro perché se Allegri vince lo scudetto c'è un altro anno. Ma io vorrei vincere lo scudetto, signori. Ma che cosa guardo da fare la Juventus? È la squadra che tifo, che sostengo. Ma io voglio che la Juventus faccia il meglio. A me non mi interessa niente che ci sia Allegri. Cioè la mia non è una campagna contro Allegri. La mia è una campagna contro il lavorare male. E se Allegri ha lavorato male negli ultimi due anni, non ho paura a dirlo. Lo dico tranquillamente. Se penso che Allegri andava esonerato l'anno scorso, non ho paura a dirlo. Lo dico tranquillamente. Se voglio vincere lo scudetto non ho paura a dirlo. Voglio vincere lo scudetto. O provare a vincere lo scudetto. Provare a migliorare quella mediocrità che abbiamo visto in campo nell'ultime due stagioni. Se ci sarà ancora Allegri un quarto anno perché avrà vinto lo scudetto. Ma datevi lo scudetto. Con la possibilità magari di vincerne un altro. Con la possibilità di far meglio. Ovviamente sempre con l'idea che se non ci si fa un bagno di umiltà e non ci si lava via delle scorie. Non si lava a nessuna parte. Quindi io non ho fiducia. Non ho fiducia in Allegri. Anzi, io sono davvero convinto che seguendo la falsa riga dell'anno scorso qui non si farà una stagione migliore. Si farà una stagione peggiore. Perché questa squadra qui è una squadra dove mettere le mani. Quindi Allegri se vuole essere tranquillo sono tutti a fare i suoi. Deve metterci le mani lui. Lui deve metterci le mani. Ma io mica ti fò Allegri. Io ti fò la Juventus. E la Juventus è allenata da Allegri. Quindi io spero che la Juventus vinca lo scudetto. Chi se ne frega che ti c'hai in panchina ragazzi. Ma proprio chi se ne frega. Perché io purtroppo vedo che c'è più odio per Allegri piuttosto che amore della Juventus in tanti commenti che ricevo qui sotto. In tanti. Addirittura uno ieri mi ha scritto non guardo neanche il video e mi basta il titolo. E certo. Dal titolo capisci tutto. Non c'è bisogno di ascoltare una ventina di minuti di contenuto. Basta leggere il titolo. Signori miei. Ma capisco eh. Capisco perché quella che stiamo iniziando è la l'ottava stagione con Allegri. Ottava. Stanca. Dopo un po' stanca. Il tifoso ha bisogno di novità. Il tifoso ha bisogno di adrenalina. Il tifoso ha bisogno di innovazione. Il pomeriggio c'è anche l'allenamento a porte aperte. A me dispiace. Non sarò presente. Però il tifoso ha bisogno di queste cose. Invece siamo sempre lì. Sembra di non muoversi anzi di spostarsi di qualche millimetro. E quando invece è andiamo indietro. Qualche millimetro in avanti 10 passi indietro. Quindi capisco. Perché io stesso non ho fiducia in Allegri. Ma non sono qui a dirvi. Spero proprio che Allegri faccia male così verrà mandato via. No io spero che la Juve vinca lo scudetto. Sono due concetti differenti. Io spero che la Juve vinca lo scudetto. Spero che la Juve vinca lo scudetto. Ci credo? No. No. Perché non credo che Allegri arriverà a mettersi così tanto in discussione. Sono molto convinto di questo. Ieri Vlaovic è volato a Monaco di Baviera per un controllo sulla pubalgia. Allora mi viene da chiedermi. Ma come sta davvero questo Cristiano? Perché col Milan non era nemmeno convocato. Col Real è entrato e assegnato. Poi tornano in Italia e lui va a fare il controllo sulla pubalgia. Cioè. Qual è la logica che c'è dietro queste scelte? Da Milan a Madrid sono passati 5-6 giorni. Una roba del genere. Con in mezzo dei giorni di lavoro. Si è riposato, ha recuperato e migliorato. O era uguale. E allora perché essere uguale col Milan? No col Real sì. Cioè. Come sta Vlaovic? Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Bisogna capirla eh questa cosa qui. Kostic. Kostic out e Carlos Augusto in. Questa è una cosa che vi dicevo ieri. Un ragazzo ieri mi ha scritto. Sì però poi non hai parlato. Hai soltanto detto. Non hai detto la tua opinione. Hai ragione. Provo a raccontarvela. Io credo che Kostic non sia uno dei problemi della Juventus. Anzi Kostic è uno dei migliori giocatori della stagione dell'anno scorso della Juventus. Uno dei migliori. In assoluto. Dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo però non ci penserei due volte. Perché come vi dicevo ieri Kostic purtroppo è un giocatore che ha la mia età. Abbiamo 31 anni caro Filippo. Quindi in caso di un'offerta importante in grado di permettere alla Juventus di liberare uno spazio in rose di andare su un giocatore come Carlos Augusto. L'ho visto anche ieri sera contro il Milan. Ho visto il primo tempo del trofeo Berlusconi. Monza Milan. Carlos Augusto ha fatto una partitone in entrambe le fasi. L'assist per il gol dell'1 a 1 è suo. E poi ci sono state due o tre chiusure interessanti. Sembrato già un giocatore in superforma. Perché altro c'ha questa facilità nel servire questi passaggi filtranti dentro l'area di rigore o comunque sulla tre quarti campo che mi ha veramente impressionato. Sembra un giocatore importante. Quindi se c'è la possibilità di cedere Kostic a una cifra interessante di andare su Carlos Augusto lo farei. Tranquillamente. Non è una cosa che poi ribadisco. Non sono qui a dire Kostic è uno dei giocatori che va ceduti assolutamente. No perché non lo penso. Anzi Kostic credo che sia uno dei valori aggiunti della Juventus. Poi nell'ultima parte di stagione ha fatto decisamente meno meglio rispetto che alla prima. Ma un giocatore come Carlos Augusto e pensare avere Carlos Augusto e Ealing sugli esterni e dall'altra parte UEA è cambiaso. Mi dà proprio la sensazione di freschezza sulle fasce. A maggior ragione in un 3-5-2 c'è bisogno di giocatori con dei polmoni importanti e delle sgasate importanti nelle gambe. Quindi un quartetto di questo tipo di esterni mi piacerebbe davvero tanto. Sono sincero. Passare da Quadrado e Kostic che erano comunque due ottimi esterni per il 3-5-2 a UEA e Carlos Augusto ci perdi qualcosina dal punto di vista dell'esperienza, del palmarès, del nome. Ci guadagni tanto dal punto di vista dinamico di gamba e di spinta. Quindi è un'operazione che farei. Poi bisogna vedere se arriva un'offerta per Kostic. Se non arriva un'offerta per Kostic ti tieni Kostic tranquillamente e fine. E fine. Io non ho parlato mai di Turam del Nissa e di Goresca del Bayern. Non li ho mai citati. C'è un motivo. Non credo che siano operazioni di mercato percorribili. Cioè non prendiamoci in giro. Se la Juventus è qui che sta cercando l'elemosina per cedere Vlaovic a costo di accollarsi Lukaku fuori rosa dal Celeste a 40 milioni. Io non ci credo che la Juve possa fare un'offerta importante al Nissa per Turam sull'ordine dei 40-50 milioni di euro o non ho idea cosa voglia il Bayern per Goresca. Non mi sembrano profili possibili oggi per la Juventus. Poi se uscirà Pogba allora vi dico. Nel caso si libera quello spazio salariale importante. La Juventus numericamente avrebbe bisogno di un centrocampista importante e chissà che non possa decidere di fare una follia. Ad oggi non mi sembrano nomi percorribili. Signori, 20 minuti di chiacchierata. Voglio sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ho cercato di toccare tanti tasti. Ho cercato di essere più preciso possibile all'interno delle varie argomentazioni perché oggi veramente mi ha fatto arrabbiare questa roba perché io capisco le scelte professionali, d'accordo, però quando iniziano ad esserci le battaglie dal punto di vista umano secondo me si sta facendo un grave, gravissimo errore perché poi i tifosi sono delle spugne e assorbono e capiscono quello che vogliono loro. Quindi le guerre a mezzo stampa da parte della società nei confronti di giocatori dal punto di vista umano vanno proprio lasciate fuori perché sono qualcosa veramente di ignobile. Grazie a tutti.